Un'azione di guerra, forse la più importante che abbiamo compiuto durante la nostra rotta cospirativa, è stata fatta nei primi giorni del mese di gennaio del 1945. Il comando brigata si incaricò di prendere contatto con una squadra GAP di Vado Ligure in vista di un'importante azione. Si comunicò che l'appuntamento era stato fissato il 9 o 10 gennaio, qui nel paese di Leggino, proprio nell'incrocio dove si va alla piazza della Chiesa. Ci presentammo in quattro persone, in quattro partigiani, primo, secondo, terzo e pari. Dopo il riconoscimento con i tre uomini di Vado, raccontandolo dal mio punto di vista, ci dirigiamo tutti insieme verso i magazzini della caserma di Leggino, dove si supponeva che vi fossero solo quattro brigate nere di guardia. Noi leginesi con uno dei GAPisti ci fermammo prima, mentre gli altri due fecero eruzione nei magazzini, trovando però solo un militare di guardia che si arrese immediatamente. Fecero il ceta di armi e vestiaria con il prigioniero, ritornarono da noi alla domanda dove fossero le brigate nere, i prigionieri ci rivelò che forse erano nel bar. Diciamo che ci caricarono tutti di coperte, delle armi che avevano lì, coperte, vestiti, cappotti, quello che avevano lì, che poteva servire, eravamo appena nel mese di gennaio, quindi potevano servire queste cose ai partigiani della montagna. Quindi ritornando indietro, entriamo nel bar di leggino qui, dove presumevamo che fossero gli altri due. Infatti entrano dentro due di loro e catturano anche gli altri due brigate nere. Si arrendono anche loro, ci danno i fucili che li avevano appesi da cappani e noi proseguiamo per la nostra stanza. Ricarichiamo anche loro un pochettino di coperte, di armi e proseguiamo la nostra strada sempre. Quindi ci inoltriamo verso la zona dell'entroterra di Leggino. Incontriamo fortunatamente la quarta brigata nera che ritornava da qualche amico, da qualche parte. Infatti ricordo che un particolare aveva un fiasco di vino umano che ci aveva magari regalato qualcuno. E catturiamo anche lui con il suo fucile, carichiamo anche lui di roba, disarmiamo anche lui e cariciamo di coperte anche lui, in modo da essere liberi di poter agire in qualsiasi momento. Siamo incamminati verso l'entroterra Legginese e appena giunti dalla zona dove attualmente c'è il capolinea del Corriere della Sip, in quella zona lì c'è una colina proprio prospiciente. Lì ci siamo incamminati in un sentiero molto ripido, piano piano perché eravamo carichi. Siamo arrivati quasi in cima e improvvisamente sentiamo il rumore di passi, di uno scalpittio molto numeroso di passi come militare. Infatti abbiamo capito che era il patuglione dei San Marco che probabilmente era stato avvertito da qualcuno dell'azione che avevamo compiuto. Ci intimavano a e non rispondendo si misero a sparare. Noi fortunatamente c'era molta vegetazione e anche da scocci dai pussi degli alberi non venivamo colpiti anche perché non sapevano dove eravamo di preciso. potevano sparare forse un po' meglio i San Marco quando i tre partigiani armati di metragliatore risposero al fuoco, ma anche lì non ci fu nessun incidente, non sapevamo di nessun altro incidente di aver colpito qualcuno perché ormai avevamo raggiunto il piano e quindi avevamo vantaggio molto importante per scappare, per liberarci di eventuali loro attacchi. loro attacchi non ne fecero perché probabilmente non avevano più paura di noi e non sapevano più niente, probabilmente si ritirarono. Con questi quattro peccionieri, tre partigiani di Vado che poi sapremmo che due erano dalla montagna. Noi quattro ci incamminiamo lentamente su per le coline di Leggino fino ad arrivare, dopo faticosi sentieri ripidi e diciamo anche piene di pietri, di stassi, anche attraversando dei boschi, arriviamo in un punto in cui i tre partigiani ci dissero che il nostro compito era finito, ricaricamo le armi che avevamo noi addosso a loro o qualcuno di loro che sono presi e ce ne ritornammo indietro alle nostre abitazioni. che raggiungemo naturalmente, non so che ora, ma era una volta molto inoltrata, alle quattro, alle cinque, non ricordo quanto tempo abbiamo piegato. Questa è stata forse una delle azioni più importanti, anche pericolose, nella quale noi non abbiamo sparato per niente, però abbiamo contribuito a recuperare tutto quel materiale lì, le armi, le coperte che poi sono andate probabilmente al distaccamento calcagno che era il più vicino, lì sopra, nell'entroterra, sopra le rocce bianche diciamo.